adottino misure di ulteriore attenzione e se dovremo rinunciare a qualcuna delle nostre abitudini in cambio di una maggiore sicurezza forse anche questo è il momento di porci il problema fino a che punto possiamo continuare a vivere come prima. Temo che andare avanti come siamo andati avanti in questo momento sia coerente con il nostro modo di pensare ma non sia più produttivo che oggi occorrano risposte caute ferme serie ma più efficaci e in questo spirito noi rinnoviamo naturalmente la nostra fiducia al nostro governo e a tutte le istituzioni europee nella convinzione che sapranno trovare risposte adeguate in questo momento gravissimo. Grazie onorevole Monchiero. Dovremmo ora passare al seguito della discussione del decreto legge numero 18 del 2016 in materia di riforme delle banche di credito cooperativo tuttavia poiché la commissione bilancio non ha ancora espresso il parere di competenza sul provvedimento sospendo la seduta che riprenderà alle ore 10 e 45. La seduta è sospesa. Grazie. 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 Grazie.